Lo sa che tra qualche mese non si potrà più fumare davanti alle fermate dell'autobus, della tramvia, negli spazi verdi? Si deve fare, si stara in casa a fumare. Allo stadio senza sigaretta? Sì. Lei è un fumatore? Sì. Quindi riesce a resistere? Sì, riesco a resistere, a non fumare comunque. Per quelle ore lì, due ore, questa non è la partita, insomma uno può anche resistere. Però se si fuma per me è meglio, poi se decidono di farlo, anche adesso per esempio nell'area ospedaliera non si può fumare, anche all'esterno. Una decisione che io vedo dal mio punto di vista un po' eccessiva, dato che siamo all'aperto. Ma per il bene del pianeta e della salute personale? Per la salute personale sono d'accordo, per il pianeta non so quanto possa influire. Assolutamente non è giusto perché è normale gente che è sempre a usare treno, tutto, tutti autobus, treni, tramvie, sempre. Non è giusto comunque. Fa bene, per quanto mi ha fatto bene. Secondo me non è giusto che non si può fumare alla fermata della tramvia così, perché alla fine ti fumi la tua sigaretta, te la butti nel cestino così. Io non fumo, però capisco, per le altre persone secondo me dovrebbe essere così. Non mi sembra giusto che non devi vietare di fumare davanti alla fermata, perché non è giusto, è un'aria aperta, capito? Casomani lo stadio ci sta. Ma nemmeno allo stadio sembra che, insomma, si stia valutando anche questa possibilità. Sarà un po' difficile. Quindi lei trasgredirà? Eh, per forza, se sono fumatori che devo fare.